Riscoprire e valorizzare il territorio, le sue identità e vocazioni, con lo scopo di far conoscere le numerose bellezze della provincia di Roma in tutta Italia. In consiglio provinciale, maggioranza e opposizione si confrontano sui principali progetti per sostenere il sviluppo economico, innovazione e cultura. Per affrontare questa sfida la provincia deve riscoprire il valore delle aree omogenee, sia dal punto di vista dell'identità, della cultura e delle potenzialità di sviluppo. Porto l'esempio dei castelli romani che rappresentano una grande risorsa ambientale anche per la città di Roma, la bellezza, la specificità dei piccoli comuni, le tradizioni, la cultura insieme all'artigianato. Allora la provincia non solo deve fare i servizi ma deve anche promuovere tutto questo per farlo conoscere.